Buongiorno, sono Antonella Pireldu, ricercatrice del Dipartimento Innovazione Tecnologica dell'Innel e vi presento a nome di tutto il gruppo di ricerca in Alistat il poster dal titolo Analisi territoriale degli infortuni stradali lavoro correlati, potenzialità degli archivi integrati. Gli infortuni rappresentano un problema prioritario per la sanità pubblica, per gli elevati costi sociali e umani che ne derivano. L'analisi e il monitoraggio degli infortuni sul lavoro con mezzo di trasporto coinvolto, cosiddetti stradali, è oggetto di grande attenzione da parte dell'Innel, in considerazione anche dell'incidenza pari a circa il 14% che gli stessi hanno sugli infortuni in generale. L'Innel e l'Istat dispongono di archivi di dati rispettivamente di infortunio e di incidentalità stradale, di fondamentale importanza per il monitoraggio e per la definizione di politiche di prevenzione del fenomeno. Grazie a tecniche di record linkage tra i due archivi riferiti al quinquennio 2014-2018, è stato prodotto un nuovo dataset integrato completo di informazioni sull'incidente e sull'infortunato. È stato possibile, pertanto, collegare il tipo di attività svolta dall'infortunato al luogo dove è avvenuto l'incidente. L'analisi sul territorio è stata condotta attraverso un'indicizzazione per provincia e settore ateco, basata cioè sul rapporto tra il numero di infortuni stradali in itinere e in occasione di lavoro e il numero di addetti stimato di ogni settore. Per le finalità del presente lavoro sono stati riportati i risultati relativi ai quattro settori economici che dall'integrazione delle due fonti di dati sono risultati maggiormente interessati da infortuni stradali nel quinquennio 2014-2018, il manufatturiero, le costruzioni, il settore commercio e i trasporti. L'indice di infortunio lavoro correlato per provincia e settore economico è stato determinato dal rapporto tra numero di infortuni stradali lavoro correlati e numero di addetti stimato, dove gli infortuni stradali lavoro correlati sono quelli con mezzo di trasporto coinvolto che interessano principalmente la circolazione stradale nelle sue due modalità di accadimento, in itinere e in occasione di lavoro. Il numero di addetti stimato anno per attività economica a teco viene determinato da INAIL come rapporto tra le masse salariali dichiarate e la retribuzione media giornaliera per 300, numero teorico di giorni lavorativi all'anno esclusi i giorni feriali. Sono esclusi da questo conteggio alcune tipologie di lavoratori e casi indeterminati. Nelle aziende con più sedi in Italia i dipendenti sono generalmente assegnati alla localizzazione della sede centrale e la classe di attribuzione a teco è univoca per tutti i lavoratori dell'azienda. I dati nazionali di infortunio stradale complessivamente in valore assoluto evidenziano una prevalenza di casi nel nord del paese e nelle strade urbane. Unica eccezione è rappresentata dalla provincia di Roma in cui per la maggior parte dei settori a teco gli infortuni sono equamente distribuiti tra autostrade, strade extraurbane e urbane. Considerando le frequenze di infortunio stradale indicizzate riferite ai settori a teco maggiormente coinvolti in infortunio stradale abbiamo commercio con indice pari a circa 18, manifatturiero 16, trasporti 11 e costruzioni circa 8. Considerando il tipo di strada ad essere maggiormente coinvolte sono le strade urbane ed extraurbane nel manifatturiero. Le strade urbane nelle vendite e costruzioni, le autostrade nel settore trasporti. Massimi di infortunio ogni 100 addetti sono stati registrati nel settore delle vendite o commercio in strade urbane del nord-ovest. Nel settore manifatturiero in strade urbane ed extraurbane del nord, nei trasporti in autostrade del centro e infine nelle costruzioni in strade urbane del nord-ovest. L'indicizzazione applicata al dataset integrato ha offerto nuove potenzialità per l'analisi della sicurezza stradale e della mobilità nel territorio e l'analisi spaziale per indici ha messo in luce aspetti infortunistici di ciascun settore a teco caratteristici di aree del territorio e dell'infrastruttura considerata. Nel nostro caso le autostrade, le strade extraurbane e urbane.